Taglio del nastro e prima giornata di scuola alla media ventriglia nel cuore del centro storico di Piedimonte Matese. L'evento molto atteso aveva un doppio significato, l'inizio del nuovo anno ma anche l'inaugurazione della nuova struttura scolastica appena ristrutturata e messa in sicurezza. C'erano tutte le autorità nel nuovo cortile della scuola compreso l'assessore al lavoro della regione Campania Sonia Palmeri ma sentiamo che cosa ci ha detto in merito il nuovo preside Lino Marotta. Allora professor Diamante Marotta dirigente scolastico dell'istituto comprensivo ventriglia di Piedimonte Matese. Nuovo incarico qui a Piedimonte Matese, nuova scuola, inaugurazione di una struttura importante e storica nel quartiere dell'Annunziata. Un momento emozionante da due punti di vista. Beh innanzitutto io sono reggente da settembre e devo dire la verità sono molto emozionato. Conoscevo Piedimonte perché sono un cagliatino però qui ho trovato un entusiasmo eccezionale. Questo istituto era chiuso dal 2009 grazie all'impegno profuso dalla missione comunale. Oggi si riapre e si dà l'utenza. Abbiamo tantissimi bambini. In questa scuola qui al plesso centrale ci saranno sia sezioni di scuola primaria sia dell'infanzia e sia l'indirizzo musicale della secondaria di primo grado della scuola media. Beh ovviamente sicurezza e accoglienza sono le cose più importanti che bisogna mettere in cantiere. Soprattutto per i nostri giovani, per i nostri bambini e le nostre bambine che devono vivere e studiare in un ambiente sano, un ambiente sicuro soprattutto. E poi devo dire la verità ho bellissimi e bravissimi docenti che già da subito si sono messi al lavoro, si sono rimboccate le maniche. Anche il personale ATA devo ringraziare gli amministrativi collaboratori scolastici per far sì che oggi ci sia questa inaugurazione con gli ambienti che già sono idoni ad accogliere i ragazzi nelle loro attività didattiche. Lei ha toccato due temi fondamentali ovvero la sicurezza e l'istruzione assieme chiaramente all'accoglienza. L'istituto comprensivo Ventriglia è un istituto che è stato completamente rivisitato, ristrutturato con fondi regionali del Dipartimento della Protezione Civile quindi su questo piano è una delle scuole di eccellenza di Piedimonte Matese che si inserisce in un quartiere tra i più popolosi, densamente popolati dove effettivamente la sfida educativa diventa ancora più entusiasmante come messaggio di un dirigente scolastico. Infatti noi siamo dislocati in più plessi, abbiamo ancora qualche criticità però so che il sindaco e l'amministrazione con l'ufficio tecnico si stanno impegnando, abbiamo qualche criticità a plesso paterno dove la mensa purtroppo è ancora chiusa, qui finalmente abbiamo il plesso centrale, c'è qualche problemino anche in Piazza Carmine però io credo che sono problemi risolvibili, ecco sempre nell'ottica di mettere in sicurezza i locali e far sì che i nostri ragazzi e l'utenza sia tranquilla, soprattutto i genitori che chiedono di più. Noi stiamo qui nel centro storico, questo è anche un motivo d'orgoglio per noi perché il centro storico di Piedimonte si stava svuotando e questo credo che sia un segnale importante, aprire un plesso nel centro storico di Piedimonte Matese con tanti bambini. Ha in qualche modo preceduto la mia domanda, di qui a breve ci saranno anche autorità al taglio del nastro ufficiale accanto a lei, diciamo che però il preside di quartiere nel senso buono che faccia un saluto accorato a tutti i residenti di questo importante quartiere di Piedimonte che oggi in qualche modo riparte. Io dico solo questo, dateci fiducia, abbiamo un po' qualche problema iniziale perché dobbiamo ancora finire i traslochi eccetera, però il nostro impegno come scuola sarà massimo, soprattutto per offrire ai nostri bambini e alle nostre bambine spazi adeguati e poi anche con un'attività formativa e didattica ad un livello sicuramente di eccellenza, grazie al personale che noi abbiamo.